Musica E' ufficiale le marche in zona rossa fino a Pasqua, contagi in calo ma rimane alta la pressione ospedaliera. La prefettura annuncia un aumento dei controlli. Doppie protesta a Pesero per dire basta alla didattica a distanza e per difendere il diritto al lavoro. Tutto quello che prevede i protocolli noi l'abbiamo fatto. I nostri bambini, i compiti, li hanno fatti. Gli adulti? Accesso al credito, ristoria e crescita delle imprese. Confronto tra il ministro dello sviluppo economico e la commissione attività produttive della regione. A lavoro Mirko Carloni che annuncia i progetti e le priorità. Ruba un portafoglio e distorce 100 euro al proprietario ma il giorno dello scambio c'erano anche i carabinieri. Arrestato e finito ai domiciliari un diciottenne senegalezo. Musione tra Aset e Marche Multiservizi. La Lega Fano attacca la deputata PD Alessia Morani e lancia un appello ai consiglieri comunali. Sono giochi di potere contrarie agli interessi della città. Il Lido di Fano cambia il look. Nuove luci sedute sul lungomare Simonetti, piantate le palme nell'area della cavea. Musione tra Aset e Marche Le Marche, lo avete sentito, rimarranno in zona rossa anche la prossima settimana. Lo ha annunciato il governatore Francesco Acquaroli che ne ha dato notizia sul suo profilo Facebook. La decisione è stata presa a causa del numero dei contagi riscontrati la scorsa settimana che sono superiori a 250 ogni 100.000 abitanti. Nel corso di questa settimana, dichiarato Acquaroli, i contagi e la pressione nei pronto soccorso si stanno riducendo mentre resta ancora molto alta la pressione ospedaliera. Nonostante l'esasperazione e le difficoltà, continua a raccomandare a tutti la massima attenzione per superare quanto prima questa situazione complicata. Nel frattempo continua la campagna di vaccinazione. Ad oggi, ha spiegato il Presidente, sono oltre 147.000 marchigiani che hanno ricevuto la prima dose quasi il 10% della popolazione per un totale di oltre 230.000 somministrazioni il 91,3% delle dosi che ci sono state consegnate. E sono 13 invece i decessi legati al coronavirus che sono stati registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Tre sono le vittime residenti nella provincia pesarese, tra cui un uomo di 59 anni di Carpegna. Avevano tutti patologie pregresse. Invece i positivi rilevati nell'ultima giornata sono 674. Le province di Ancone e di Pesaro Urbino rimangono le più colpite. I ricoveri negli ospedali sono in leggero calo rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva scendono a 152, mentre quelli in semi-intensiva salgono a 214. E oltre all'emergenza sanitaria, la Regione Marche sta lavorando per far fronte alla crisi economica. Per la prima volta, ha detto il vicepresidente Mirko Carloni, dal governo c'è piena disponibilità ad ascoltare i territori. La crescita delle imprese, l'attrazione degli investimenti, l'innovazione tecnologica e le politiche per l'occupazione. Sono solo alcuni dei temi trattati ieri dalla Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni, coordinata dalle Marche, che si è confrontata in modalità online con Giancarlo Giorgetti. Il Ministro dello Sviluppo Economico ha focalizzato il suo intervento sull'assoluta necessità di una collaborazione con i territori. Per la prima volta, ha commentato il vicepresidente Mirko Carloni, è stata manifestata una disponibilità non comune a lavorare insieme. Le Regioni devono essere protagoniste in vista soprattutto dei recovery plan. La pandemia ha provocato un'emergenza sanitaria, ma anche grave ripercussioni sull'economia. Alcuni settori sono colpiti in modo stabile da oltre un anno. È necessario affrontare con coraggio e con impegno la crisi. Il lockdown, ha detto Carloni in videoconferenza con la stampa, ha provocato effetti economici devastanti e non si può più chiamarla emergenza perché questa è di carattere temporaneo. Nell'incontro con Giorgetti si è parlato anche di ristoro rispetto al fatturato. Ad aprile, annunciato, ci sarà un altro decreto. C'è una sofferenza economica e psicologica. Le palestre, ad esempio, hanno subito delle perdite importanti e hanno dei debiti verso i clienti a cui dovranno far fronte alla riapertura. Il danno è la beffa, ha commentato Carloni. Stessa situazione per gli ambulanti, il settore fieristico, bar e ristoranti. La perdita di fatturato non è più sufficiente come valutazione. Poi l'accesso al credito. Molte banche, ha proseguito il vicepresidente, nonostante le garanzie e i confidi non concedono credito per evitare ulteriori indebitamenti. Inoltre, Carloni ha fatto presente al ministro i nuovi investimenti che passano per la defiscalizzazione e la crescita dimensionale delle imprese attraverso una progettualità che è quella delle filiere. Cioè, un nuovo modello da realizzare individuando gli ecosistemi più strutturali, creando così un rafforzamento logistico, finanziario e tecnologico. I settori individuati sono quelli della meccatronica, del fashion e del food. Inoltre, il ritardo di oltre tre anni della banda ultralarga, un problema detto di cui il ministro deve farsi carico. A ribadire l'importanza di un lavoro in sinergia è stato il presidente Francesco Acquaroli. Le aziende cercano nella regione un'intermediazione con il governo centrale. In questo periodo, ha dichiarato il governatore, abbiamo svolto un lavoro di ascolto con le associazioni, le categorie e le imprese duramente colpite dalla chiusura. Da una parte c'è la paura di non farcela, dall'altra la voglia di ripartire. Dobbiamo essere il collante che possa rappresentare le risposte ai mundi che fanno affidamento su di noi. Il lavoro di squadra è stato ribadito oggi anche dal premier Draghi. C'è una esasperazione importante, ha commentato Acquaroli. Servono meno polemiche e più capacità di rappresentare il senso delle istituzioni. Questo deve avvenire con un dialogo e un confronto fatto anche di critiche costruttive. In chiusura, il presidente ha commentato la volontà del governo di intervenire sugli operatori sanitari che non vogliono vaccinarsi. Il vaccino è una grande arma per arginare il virus, ha affermato il governatore, ed è una possibilità di rilancio economico. Attendiamo di capirne di più e poi valuteremo i singoli provvedimenti. A Dolora la notizia della scomparsa di Don Guido Vincenzi, prete del popolo e sempre attento ai bisogni della comunità. È il cordoglio del sindaco di Pesero Matteo Ricci per la morte del sacerdote della parrocchia di San Carlo Borromeo a Pantano. Al fianco dei lavoratori, in prima linea anche nel mondo sportivo, nei suoi 60 anni di sacerdozio, Don Guido ha saputo comprendere le dinamiche cittadine, facendosi portavoce delle necessità dei pesaresi con forza e semplicità. Cordoglio è stato espresso anche dal presidente dell'UMPLI, Damiano Bartocetti. I funerali della sacerdote verranno celebrati in Duomo domani mattina alle ore 11. Incendio la notte scorsa, poco dopo l'una, in un capannone dell'azienda Mondo Iotti, ha inviato Masetti a Trecastelli nel comune di Ancona. Per fortuna si è potuto evitare il peggio grazie all'impianto antincendio con un sistema di allarme collegato alla centrale operativa della vigilanza privata di Fano. In pochi minuti la pattuglia di zona è intervenuta sul posto. La guardia ha aperto la porta, ha visto del fume e delle fiamme nel reparto magazzino e ha allertato sia i pompieri che i proprietari. Ad andare a fuoco, per causa ancora in fase di accertamento, è stato un carrello che conteneva attrezzi. Nessun danno è stato arrecato alla struttura. Doppia protesta questa mattina a Pesaro, da una parte il mondo della scuola e dall'altra quello dei lavoratori. Allora partiamo dalle categorie economiche che sono scese in Piazza del Popolo per difendere il loro diritto al lavoro. C'era per noi Angelica Pansieri. Albergatori, ristoratori, baristi, agenzie viaggio, titolari di palestra erano in centinaia oggi qui in Piazza del Popolo a Pesaro per protestare contro le chiusure imposte dai vari decreti del governo e per chiedere soltanto una cosa, di poter riaprire al più presto. Chiediamo delle risposte urgenti. Noi siamo venuti con i cuscini in piazza che è il simbolo dei nostri letti, che sono freddi da troppo tempo perché molti alberghi anch'iusi a ottobre non hanno più riaperto. Abbiamo perso la Pasqua e non abbiamo la certezza della riapertura. Chiediamo che in fase di conversione venga rivista la legge sui ristori, sui sostegni e chiediamo una grande efficienza sui vaccini perché il turismo verrà solo salvato se verrà vaccinata tantissima gente. Siamo chiusi da un anno, anzi no, 13 mesi. Stiamo mantenendo le nostre famiglie a forza di chiedere ai nostri genitori perché le tasse non si fermano, non si ferma niente, non ci hanno dato ristori perché lavorando nel settore delle fiere noi siamo mercatari, abbiamo lo stesso codice a teco dei mercati e quindi non abbiamo avuto nessun ristoro. Insieme per difendere il diritto al lavoro, con questo appello le associazioni delle micro e piccole imprese operanti nei settori del commercio, turismo e dei servizi sono scese in piazza del Popolo a Pesaro questa mattina. Commercio stremato, famiglie sul lastrico, non siamo untori ma lavoratori, sono solo alcuni degli slogan stampati sui centinaia di cartelli alzati durante la manifestazione, un grido di protesta per la situazione economica che queste categorie stanno vivendo da oltre un anno. Alla fine la consegna di un documento da parte di una delegazione delle associazioni al prefetto Vittorio Lapolla contenente le richieste delle imprese al governo. Non c'è nessuno, non chiama nessuno, non scrive nessuno, quindi è un settore completamente bloccato ma non da poco, da oltre un anno. Gli operatori dell'incoming che nelle marche portano milioni di turisti lavorano con un anno diciamo in anticipo perché devono programmare i pacchetti e venderli ai tour operatori italiani ed esteri. Quindi significa che noi non solo siamo stati fermi nel 2020 e nel 2021 ma anche nel 2022 faremo fatica. Si parla addirittura di 2023-2024 per la ripresa del turismo. Abbiamo oltre 500, credo che un'organizzazione in giro di qualche giorno che porta 500 persone in una piazza vuol dire che la gente si è veramente stufata. La pazienza è finita, i ristori ricevuti col decreto Draghi sono esigui quasi alla pari di un'elemosina. I protocolli Covid li abbiamo adottati, abbiamo speso migliaia di euro per fare, facciamo il distanziamento, facciamo tutto, aumentano i positivi, noi siamo chiusi, quindi non siamo noi la causa della positività, quindi a questo punto dateci l'opportunità di lavorare, poi chi sbaglierà pagherà e pagherà seriamente. Noi perché siamo ritenuti non essenziali, nessuno è non essenziale, perché le nostre famiglie noi siamo essenziali, il nostro lavoro è essenziale per coloro che girano e che vanno in giro, soprattutto a pranzo, che devono mangiare all'interno delle macchine con delle cose d'asporto ignobili. A tutti abbiamo una dignità e questa dignità va rispettata. Manifestazione anche al campus scolastico per dire basta alla didattica a distanza, il Comitato regionale priorità alla scuola chiede il rientro in classe in sicurezza. Ma cosa vi abbiamo fatto? Ci avete abbandonato davanti ad uno schermo? Era uno degli slogan che questa mattina al campus scolastico campeggiava sugli striscioni tenuti in mano da studenti, insegnanti e mamme, tutti uniti e insieme nella mobilitazione e sciopero nazionale che anche a Pesaro ha raccolto un'adesione altissima. Sostenuta dal Comitato marchigiano priorità alla scuola, l'iniziativa di oggi tenutasi contemporaneamente in 60 piazze italiane ed oltre a Pesaro anche nella città di Ancona, è nata con l'obiettivo di appoggiare in tutto il paese lo sciopero indetto dal sindacato Cobas e dal coordinamento nazionale precari della scuola. Una manifestazione per dire basta alla didattica a distanza e soprattutto per chiedere la riapertura imminente delle scuole. Striscioni, megafoni e tamburi in mano per chiedere ancora che le risorse del Recovery Fund siano destinate anche al rilancio della scuola pubblica e quindi riservate anche al Sacro Santo diritto all'istruzione e allo studio. Siamo qui a manifestare perché la didattica a distanza sta incominciando a essere un problema, un problema effettivo, un problema strutturale. I ragazzi hanno bisogno a tutti gli effetti di tornare in classe, noi ragazzi abbiamo bisogno. Gli alunni purtroppo non riescono più a sostenere questo regime di lavoro. L'amministrazione regionale si è dimenticata ai ragazzi dietro gli schermi dei computer e non ha intenzione di ricominciare a pensare a loro a breve termine e noi abbiamo bisogno di questo. Anche il governo centrale si è espresso in questa direzione e siamo molto contenti. La priorità alla scuola deve essere veramente la priorità del paese. Ci operiamo perché siamo stanchi di vedere cadere su di noi tutte le contraddizioni generate da linea d'impienza. Una classe politica che a più livelli ha deciso fondamentalmente di non prendersi carico di quel diritto, di far rispettare quel diritto essenziale che è il diritto all'istruzione. Una politica miope che non vada e non tiene in conto le conseguenze che avranno questo stato continuo di deprivazione. Dare alla scuola tutti gli strumenti necessari per riaprire in sicurezza. Questo è, non chiediamo nulla di più. Vogliamo che la scuola ritorni al centro, al centro del pensiero del governo. Non dimentichiamoci gli adolescenti che praticamente sono un anno che non frequentano la scuola. Riportare la scuola al centro con un piano ben preciso. Vaccinazioni a tappeto, stabilizzazione dei precari, l'eliminazione delle classi pollaio. Sono tutti temi che non nascono oggi, ma parliamo forse di 20 anni fa. Oggi paghiamo lo scotto magari di un'istruzione lasciata sempre un pochino ai margini. Tutto quello che prevede i protocolli noi l'abbiamo fatti. I nostri bambini, i compiti li hanno fatti gli adulti. L'11 gennaio abbiamo presentato un'interrogazione in aula chiedendo di fare screening periodici ai ragazzi, una richiesta che non è stata accolta dalla giunta a Quaroli, ma proprio oggi vediamo che invece questa proposta è arrivata anche a livello nazionale dal ministro Bianchi che ha annunciato di tornare prima possibile in aula con screening ogni lunedì per i ragazzi. Tra l'altro ora che metà del corpo docente vaccinato non ha più senso nemmeno rimanere a casa con la bella stagione, l'apertura delle finestre, i docenti vaccinati. Io mi auguro che subito dopo le vacanze di Pasqua si possa finalmente riprendere la didattica in presenza. E come avrete sentito oggi pomeriggio il premier Mario Draghi ha annunciato il ritorno in classe dopo Pasqua per gli alunni fino alla prima media. E sull'argomento oggi è intervenuto anche il sindaco Matteo Ricci. Riaprire le scuole in sicurezza si può e le risorse ci sono. Ha detto esportiamo il modello Pesaro in tutto il paese. La riapertura delle scuole in sicurezza è possibile. Si può fare con lo screening generale a tutti gli studenti. Finalmente il governo sta analizzando la nostra proposta. È l'unico modo per finire la scuola in presenza il più possibile e finire l'anno scolastico in maniera ordinata. Non c'è alternativa ai tamponi veloci agli studenti perché i ragazzi sono fuori dalla campagna di vaccinazione. Fine ai 16 anni non lo faranno e i più grandi lo faranno quando l'anno scolastico sarà già finito. Allora se davvero crediamo nella riapertura della scuola in presenza bisogna organizzare lo screening. Noi a Pesaro comunque lo organizzeremo, siamo già pronti per farlo nelle scuole medie e nelle scuole superiori e se lo facciamo noi a Pesaro lo possono fare nelle regioni, a iniziare dalla regione Marche e lo può fare il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione per tutto il paese. La cronaca e i carabinieri di Fossombrone hanno tratto in arresto per furto aggravato e distorsione un senegalese di 18 anni residente nella Val Metauro. Il giovane martedì scorso aveva sfilato il portafoglio a un 28enne di origine africane mentre si trovavano a bordo di un autobus. I due appena conosciuti si erano scambiati il numero di telefono durante una chiacchierata. Ma la vittima aveva un forte sospetto sul connazionale. Così ha detto al 18enne che sarebbe stato disposto anche a pagare pur di riavere indietro il portamonete con i documenti all'interno fondamentali per lui per firmare un contratto di lavoro ma niente da fare. Poi la sera stessa il senegalese ha chiamato il 28enne dicendogli che grazie a un amico aveva ritrovato il suo portafogli e che erano necessari 100 euro per riaverlo indietro. Un vero e proprio cavallo di ritorno non ha dato buon fine grazie all'intervento dei carabinieri. L'appuntamento tra i due è stato fissato in piazza Dante Alighieri a Fossombrone ma da attenderlo. Oltre alla vittima c'erano anche i militari che hanno atteso lo scambio e poi hanno bloccato il ma vivente. Ieri si è svolta l'udienza di convalida e il giudice ha applicato al 18enne la misura cautelare degli arresti domiciliari. E nell'ultima settimana le forze dell'ordine della provincia di Pesero Urbino hanno eseguito più di 3.000 controlli di elevato 44 multe per la violazione delle norme anticontagio. Inoltre sono state effettuate delle verifiche in più di 700 esercizi commerciali ma senza la contestazione di illeciti. Dopo una riunione che si è tenuta ieri in prefettura con i sindaci, l'Azur e l'Area Vasta è stato disposto un ulteriore aumento dei controlli per tutto il periodo delle festività pasquali. Infatti le autorità sanitarie hanno espresso la seria preoccupazione sulle strutture ospedaliere e sull'andamento dei contagi anche a causa della presenza delle varianti. Il lunedì apre il nuovo punto vaccinale nell'area dell'ex Ristò all'interno del Rossini Center in via Gagarin a Pesero e la direzione dell'Area Vasta 1 fa sapere che ci sarà un posticipo di mezz'ora rispetto all'orario previsto negli appuntamenti. Pertanto le vaccinazioni inizieranno alle 8.30. La direzione invita i cittadini prenotati nella fascia oraria 8-9 a non presentarsi prima delle 8.30. Il differimento verrà comunque recuperato durante la giornata e rimangono invariati gli altri orari di convocazione. Cambiamo argomento, continua la polemica sulla fusione tra Aset, S.P.A. e Marche Multiservizi. Oggi nel dibattito interviene la Lega Fano che attacca la deputata Alessia Murani e lancia un appello ai consiglieri comunali responsabili del futuro delle due aziende. Fuori dalle ideologie e dai pregiudizi la decisione sui dati oggettivi. Lo aveva scritto sul suo profilo Facebook la deputata Alessia Murani che ha giudicato interessante la decisione del sindaco Seri di valutare i pro e i contro della fusione tra Aset e Marche Multiservizi. Un commento che non è passato inosservato al capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Gianluca Elari che ribadisce le conseguenze negative di un'eventuale aggregazione delle due aziende provinciali. È difficile capire che cosa stia succedendo sia dal punto di vista dell'amministrazione comunale a Fano ma anche alle amministrazioni limitrofe. Quello che sta accadendo secondo noi non ha alcun senso perché bisogna partire dall'inizio, bisogna partire da capire che cosa è Aset. Aset è un'azienda sana che guadagna intorno ai 3-4 milioni di euro ogni anno e che gestisce i servizi in modo ottimo e fatta da persone in gamba competenti. Quindi non riusciamo a capire quale sia il vantaggio politico nel trasferire Aset in Marche Multiservizi. E Valter si è spiegato a chi ci ascolta a casa che questo passaggio porterà sostanzialmente a due grandi conseguenze sul nostro territorio. La prima è un aumento indiscriminato delle tariffe perché è sufficiente andare a controllare quello che c'è oggi sul sito di Marche Multiservizi per vedere qual è il trend rialzista delle tariffe. Il secondo invece è la libertà di poter gestire i nostri investimenti sul territorio. Perché voi dovete capire che il 50% dei ricavati di Aset verrebbero trasferiti verso l'Emilia Romagna e verso Bologna, perdendo così la libertà politica che ha la nostra amministrazione comunale nel scegliere dove investire quei proventi. Poi c'è una questione legata all'opportunità politica. Noi facciamo un appello a tutti i consiglieri comunali, quelli che non sono legati agli interessi di partito, in questo caso del Partito Democratico, e sappiamo che ce ne sono tanti perché la maggioranza è spaccata su questo, a prendere atto che siamo noi a decidere, sono i consiglieri comunali a decidere, perché nello statuto di Aset c'è proprio scritto che è il consiglio comunale ad essere sovrano. Quindi noi abbiamo il dovere politico e morale di fare gli interessi della città e non gli interessi privati di un partito. Ilari inoltre commenta le parole dell'onorevole Morani che, secondo indiscrezioni, potrebbe prendere il posto di Simona Malpezzi, la quale lascia il ruolo di sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento perché eletta ieri capogruppo al Senato del Partito Democratico. Secondo la Lega Fano, Morani dimentica di dire la verità ai fanesi e giudica le sue ultime dichiarazioni fuori luogo perché dimentica, spiega Ilari, di come la precedente amministrazione regionale a guida PD abbia distrutto la nostra sanità. I cittadini invece hanno una buona memoria. È evidente che l'onorevole Morani, forse in cerca di una ribalta mediatica per non essere dimenticata, si stia occupando anche delle questioni di casa nostra. L'abbiamo visto nella sanità qualche giorno fa e ieri, insomma, di queste ore, di questi giorni, anche l'intervento diciamo sulla fusione di Aset con Marche Multiservizi. È evidente che sta cercando un terreno su cui poi giurare fedeltà all'interesse del Partito Democratico, forse per essere rinominata nuovamente sottosegretario. E parliamo di opere pubbliche perché sono in arrivo dalla regione. 21 milioni di euro per la provincia di Pesero Urbino. La terza commissione consigliare ha approvato il piano triennale che prevede 15 interventi nei comuni di Fano, Pesero Urbino, Monteporzio, Mondavio e Fiorenzuola di Focara. Alcuni di questi, hanno dichiarato i consiglieri della Lega Luca Serfilippi e Giorgio Cancellieri, sono strategici per lo sviluppo turistico del territorio, come le ciclovie del Foglia, di Pesero Pian del Bruscolo, del Metauro, poi il ponte ciclo pedonale sul Cesano e il completamento del Bike Park sul Monte Catria. E torniamo a Fano perché ci sono degli interventi anche sul lungomare Simonetti dove sono previste luci sceniche e cura del verde con la piantumazione di nuove palme. Ma sentiamo i particolari nel servizio che ha realizzato Filippo Pucci insieme a Barbara Brunori, l'assessore fanese. Si sono conclusi ieri i primi lavori di sistemazione della cavia del Lido in zona mare a Fano. Piccoli interventi per grandi risultati, ha affermato l'assessore Barbara Brunori, che ha elencato gli interventi eseguiti e quelli in programma, come l'installazione di nuove luci a LED a partire dal mese di maggio. Stiamo intervenendo sulla cavia del Lido con un'illuminazione scenografica e di tipo architetturale che prevede, oltre che questo cambio vegetativo che abbiamo fatto in questi giorni, quindi sostituendo i pitospoli che erano diventati il ricettacolo di rifiuti, ma oscuravano anche questo bel vedere di cui la nostra città può fruire, l'abbiamo sostituiti con queste quattro palme e al di sotto di ogni palma verranno messi due fari proprio per dare questa illuminazione spinta verso l'alto e l'illuminazione nuova, la suggestione appunto di cui parlavo, prevederà anche tutta quella che l'ha passeggiata, il camminamento della parte di legno, ma anche sotto l'anfiteatro, a perimetro delle sedute, verrà messa in un'illuminazione specifica. Dopodiché un'ulteriore illuminazione verrà fatta sul muro che appunto scenderà, andrà in profondità su quello che è l'anfiteatro e verranno anche predisposti ai lati due fari che naturalmente saranno a disposizione per i grandi eventi per illuminarla ancora più, perché parliamo di un'illuminazione romantica. Oltre questo riqualificheremo anche le sedute, quindi le quattro panchine esistenti verranno sostituite con delle panchine come quelle del molo, naturalmente con una modifica, che è quella che ho chiesto successivamente all'installazione, quindi all'interno della seduta verranno messe delle listelle di legno. Nel frattempo i lavori di decoro urbano nella città non si sono fermati neanche durante la zona rossa. Tra gli interventi, la sistemazione delle isole ecologiche con i loro problemi di accessibilità in zona ex Matatoio e Via del Fiume e altri già in programma, ed infine il montaggio di nuovi pannelli informativi con la rimozione dei vecchi ammalorati e in alcuni casi distrutti. Per tutte quelle che sono le segnalazioni siamo a disposizione, abbiamo un numero a disposizione del Comune di Fano che è l'887 219, al quale potete naturalmente rivolgere tutte quelle che sono gli stati di degrado. Cerchiamo di esserci anche perché davvero abbiamo bisogno di ricominciare ad uscire e trovare un luogo sempre più bello. Fare dell'atleta di Fano la bandiera del G20 italiano è la proposta del sindaco Massimo Seri che oggi ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e al Ministro della Cultura Dario Franceschini. A distanza di due anni dalla sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito in via definitiva che l'atleta di Fano è di proprietà dello Stato italiano. Il sindaco ha chiesto di portare a livello diplomatico più alto una vicenda internazionale complessa ma simbolica per la cultura del paese. Infatti il prossimo 3 maggio si terrà a Roma il G20 dei Ministri della Cultura, mentre il 9 aprile è in programma un incontro preparatorio sui temi della tutela del patrimonio e della lotta al traffico illecito delle opere d'arte. Sarà una bella occasione, ha detto Seri, per fare passi avanti. Il sindaco Massimo Seri lunedì sera sarà ospite a Primo Cittadino, il programma che andrà in onda in diretta alle ore 21 subito dopo il nostro telegiornale. Adesso apriamo l'album di Fano TV per fare le congratulazioni al fanese Simone Letizzi che oggi si è laureato con 110 lode in Ingegneria e Scienze Informatiche. Tra poco trasmetteremo una nuova puntata di esplorare i confini a cura del circolo Bianchini di Fano. Domani mattina invece alle ore 7 sempre in diretta tornerà la rassegna stampa. Occhio ai giornali. Buona serata a tutti.